Si tratta di un passaggio politico e istituzionale estremamente importante perché con l'approvazione di quest'atto il Consiglio Comunale dà sostanzialmente il via al progetto del Centro Sportivo della Fiorentina a Bagnaripoli. Nove mesi circa e tempi per tutto l'iter della variante urbanistica per far sì che il Centro Sportivo Viola a Bagnaripoli diventi da progetto ad una realtà.